Pronto a fare querela contro il comune di Agropoli l'ex amministratore comunale Mario Capo che lamenta disturbo della quiete urbana in località Moio di Agropoli. Da qualche mese a Moio dobbiamo sorbirci tutte le sere una specie di karaoke o una cosa del genere di artisti che non so chi siano, che utilizzano, non so se con uno straccio di autorizzazione, la struttura pubblica di fianco al palagrin, scrive Mario Capo. Adesso, dopo questo post, chiamerò i carabinieri, poi se la cosa continua farò una bella querela nei confronti anche del comune di Agropoli. Vorrei capire se è lecito impedire ad un cittadino che torna a casa dopo una giornata di lavoro di vivere serenamente la propria abitazione e se è altresì lecito che una struttura pagata con i soldi di tutti i cittadini sia utilizzata per infastidire gli stessi cittadini che l'hanno pagata. Sono sempre più convinto che 15 anni fa su Agropoli si è abbattuta una calamità non naturale ma voluta. Dopo di allora nulla è più come prima. Le regole sono un ricordo. Tutto è possibile. Basta che ci siano due fattori essenziali, business e clientele. Senza almeno uno di questi due fattori nulla è possibile. Anche altri residenti si associano alla contestazione. Sono mesi che questo karaoke va avanti nonostante varie segnalazioni. Ovviamente inascoltate, scrive una cittadina. C'è chi oltre al disturbo acustico sottolinea la legittimità dell'uso della struttura da cui proviene il karaoke visto che non è adibita a quel tipo di attività. Se si utilizza un bene pubblico bisogna capire perché gli è stato concesso e se gli è stato concesso. Quale introito ne avrà il comune di Agropoli, quindi noi cittadini, e se è a scopo benefico o culturale, la documentazione. Infine un cittadino richiama l'articolo 659 del codice penale. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro.